Il passo successivo all'acquisto di una licenza split è l'acquisto di uno split contract. In questa guida ti mostreremo come acquistare uno split contract in ultima. Accedi al sito web della DFU, scorri la pagina e visualizzerai un elenco di prodotti disponibili per l'acquisto. Per acquistare uno split contract, clicca sulla scheda Split Contracts. Seleziona il contratto desiderato e clicca su Purchase. Acquista Si aprirà una finestra dove ti verrà chiesto di selezionare un metodo di pagamento. Seleziona Ultima. Conferma l'accettazione dei termini e delle condizioni selezionando la casella di controllo e clicca su Purchase. Acquista Nella finestra che si aprirà saranno indicati l'importo in ultima e l'indirizzo del wallet a cui trasferire l'importo specificato. L'indirizzo sarà disponibile anche come codice QR per effettuare la transazione dall'applicazione mobile. Per pagare, invia l'importo richiesto al wallet specificato. Invia l'importo esatto che visualizzi sullo schermo. Attendi la notifica di pagamento. Fatto! Hai acquistato uno split contract. In seguito all'acquisto di un contratto, noterai che i valori del widget split license usage, utilizzo licenze, nel dashboard sono cambiati. Grazie! Grazie!